Il ministro giapponese con delega ai giochi olimpici, Tamayo Marukawa, ha stabilito che a causa del Covid alle Olimpiadi di Tokyo non saranno ammessi spettatori. La situazione epidemiologica ha spinto il governo nipponico a decretare lo stato di emergenza per tutto il periodo dei giochi, a causa dell'effetto delle varianti e per arginare i nuovi contagi. Sul fronte europeo il Regno Unito ha annunciato che dal 19 luglio non sarà più necessaria la quarantena per i vaccinati che provengono dall'Italia. Grazie